Grazie 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 Al basso Faso Si perdaglia la settima posizione Come miglior bassista Di Porta Romana dalla porta romana a Milano siamo giunti alla fine di questo concertino e adesso è vero è giusto e i primi otto slappano ragazzi lo slapp va forte sul basso non avete ancora capito è la tecnica giusta fai sentire uno slap ci stavo guardando non è male non è male primo posto quello sta bene primo posto eccolo qua sta per suonarlo fai sentire batterista Bobo fammi batterista Bobo in sottofondo così soddisfiamo il nostro pubblico che giustamente intanto sentiamo batterista Bobo anche io non me lo ricordo più eccolo qua batterista Bobo è tutto quello che sappiamo va bene vi suoniamo adesso un brano scritto due minuti fa da Alessio Menconi con grande maestria solo lui può fare mi ha fatto in tempo a fargli le partite però gli ho detto in là basta così siamo già pronti per suonarlo incredibile dedicato a voi viaggia in paranorci dal sapore brasil nord-est brasil che vedano ci sì sta l'orcia grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.